Scusatemi, buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 8 febbraio. Quali sono le notizie fondamentali della giornata? Insomma, tutti quanti i giornali parlano del grande accordo, della grosse coalizione, cioè l'inciucio fatto in Germania. L'inciucio fatto in Germania è una cosa che non si può raccontare come l'inciucio, perché se l'Italia fa un accordo tra destra e sinistra è un inciucio, se lo fanno i tedeschi è la grosse coalizione che ci ricorda Willy Brandt del 1966. Ecco, se in Germania il capo dell'opposizione, che è Schulz, quello che Berlusconi definì il capo, il grande difensore della sinistra, dei valori della sinistra contro la destra italiana, ecco, se il grande difensore dei valori della sinistra Schulz fa una campagna elettorale dicendo non faremo mai l'accordo con la Merkel, la Merkel è il male assoluto, non faremo mai un governo con loro, meglio andare alle elezioni, lo disse prima delle elezioni e anche dopo le elezioni, questo era il capo del Partito Socialdemocratico, ebbene, se questo signore che è il capo del Partito Socialdemocratico tedesco poi dopo viene comprato con un ministero, come è avvenuto, degli esteri e mal ce ne incoglierà, perché avremo come ministro degli esteri questo Schulz un po' fumantino, immaginate voi i rapporti tra Schulz, Berlusconi e Renzi se dovesse esserci l'inciucio anche in Italia, bene, questo se diventa ministro degli esteri e annulla tutte le dichiarazioni fatte in campagna elettorale, beh, insomma, i tedeschi hanno preso atto della serietà della continuità politica tra democratici e sinistra, inoltre si porta a casa anche il ministero delle finanze, alcuni giornali messaggiano tra tutti, titolano la fine dell'austerity tedesca, non ci credo, ma il punto fondamentale che mi viene da sorridere e come i tedeschi siano esattamente, verrebbe da dire con cipolla che la percentuale di bugie, non di cretini, all'interno della politica è indifferente dalla nazionalità, basta che tu sia un politico in Italia, come in Germania, come in Francia, come in Inghilterra, il tasso di presa per i fondelli nei confronti degli elettori è sempre elevatissimo. Ma ditemi un po' voi, se Schulz dice non farò mai l'alleanza con la Grossi Coalizioni, non farò mai l'alleanza con la Merkel, è meglio andare a votare un'altra volta e poi dopo si trova in un governo in cui si trova il ministro degli esteri lui e il ministro delle finanze del suo sodale. Insomma, che cosa avremmo detto noi giornalisti italiani se fosse arrivato in Italia? La solita cosa italiana, ma ovviamente in Germania questo non si può dire, perché i tedeschi, Uber, Alles, li critichiamo tanto, ma alla fine dentro di noi c'è questa idea, beh, loro sì che sono seri, beh, sì, sono seri, quanto lo siamo noi, allora, mettiamola così. straordinaria anche la sottovalutazione di quello che è successo ieri del premier italiano Gentiloni. Vedete, ieri Gentiloni si è trovato a fare una lezione all'Università di Berlino e doveva fare in realtà in Germania una bilaterale, uno di quegli incontri diplomatici importantissimi, sapete un po' con chi? Con la Merkel. Pare che la Merkel l'abbia chiamato ieri mattina e gli abbia detto scusami, non ce la faccio perché sto facendo l'inciucio, cioè la grosse coalizione. Oggi i giornali italiani che cosa fanno? Muti! Cioè ieri, quello va a Berlino a fare una lezione, non mi dite che Gentiloni presidente del Consiglio Italiano con tutti i cazzi che c'ha deve andare a Berlino a fare la lezione all'Università di Berlino. Sarà andato lì anche per la bilaterale, no? È chiaro, è evidente, ci arriva anche un bambino piccolo così. Però, una volta arrivato a Berlino, viene chiamato dalla Merkel, probabilmente dal suo segretario, parla con la segretaria di Gentiloni e dice scusami Gentiloni, purtroppo ci abbiamo da fare, non ti vediamo. Allora io mi chiedo, secondo voi, se a Berlino ci fosse andato Macron, sarebbe successa una cosa di questo tipo? E secondo voi, il fatto che i giornali italiani di questa cosa non ne parlino, è una dimenticanza? È una sottovalutazione? Io non penso che noi si debba godere del fatto che il Presidente del Consiglio Italiano non è stato ricevuto da una bilaterale quando ha preso il suo eretto ed è arrivato a Berlino. Io penso che si debba dire il contrario. Bisogna rivendicare che l'Italia non può essere trattata così chiunque sia Presidente del Consiglio Italiano. Se il Presidente del Consiglio Italiano si presenta in Germania per fare una bilaterale e il Premier tedesco non ci sta, beh, insomma, uno può dire siete dei cazzoni. Pensate a fare l'inciucio invece di vedere il Presidente di un grande parte del commerciale della Germania com'è l'Italia. Non si fanno le guerre per questo, ma certamente un pochino di dignità di questo Paese bisogna averlo. Non lo so, poi dopo forse è una roba un po' troppo nazionalistica quella che penso, ma così la vedo. Beh, grazie al cielo i cretini del politicamente corretto sono dall'altra parte del globo. Sono in Nord America, salvata da Trump, e in Canada. Per fortuna che in America c'è Trump e non c'è un Trudeau, che è quello che fa yoga. Un cretino totale! Cioè, voi vedete, sì, quello Presidente del Consiglio, Presidente votato dai canadesi, un cretino totale! Totale! Si può dire? Sì, lo posso dire, tanto, insomma, probabilmente non gliela tradurranno in francese o in inglese questa nostra zuppa di porro, ma io rivendico anche se gliela traducessero, perché ieri cosa è successo? Una mamma a una commemorazione ha detto L'amore materno cambierà il futuro degli uomini. L'amore materno cambierà il futuro degli uomini. Una frase senza senso. Ma comunque, lasciamo perdere la banalità della frase, ma la parte ultima della frase è cambierà il futuro degli uomini. Il futuro degli uomini si dice in inglese The Future of Mankind Mankind si scrive Mankind Man Uomo Uomo Kind Tipo insomma, umanità, no? Che parte, è una parola formata da men che non piace a Trudeau perché men vuol dire uomo non è donna è uomo chiaro? Mankind non si può dire. Allora, Trudeau ha detto, ha interrotto la signora che ha detto questa banalità dall'amore materno cambierà il futuro dell'umanità e dice Trudeau ci piace usare il termine People Kind non Mankind People Kind poiché Mankind perché People Kind è più inclusivo. Cioè gli ha detto non puoi dire Mankind devi dire People Kind alla signora che sta a vista banalità gli dice non puoi dire Umanità non puoi dire ma devi dire People Kind perché è più generico non è costruito dalla parola uomo cioè voi vi rendete conto che il presidente del Canada dice che è politicamente più corretta Mankind invece che People Kind che Mankind allora io dico noi abbiamo la Boldrini che fa il numero 2 il numero 3 di questo paese ma lo fa dallo scranno della Camera quindi conta relativamente poco pensa un po' se avessimo Trudeau quello dello yoga e del People Kind ragazzi questi sono matti sono matti da legare matti da legare vabbè altro Francesco che è un boldrino questo è un cretino uno può dire Mankind togliere Mankind e mettere People Kind risolvi qualcosa dicendo questa stronzata nulla diciamo che della giornata c'è Legnini in un'intervista che vi segnano il vicepresidente del CSM che effettivamente nota come ci siano 7 magistrati detenuti e 2 interdetti per corruzione soltanto negli ultimi visi 9 magistrati interdetti per corruzione o arrestati per corruzione beh insomma non ha un segnale molto interessante di quello che è la magistratura siccome noi siamo sempre lì focalizzati sui politici corrotti oggi il fatto i 51 indagati che sono candidati fino a prova contraria agli indagati si possono candidare molti indagati probabilmente oggi so fanno i sindaci dei loro amici del Movimento 5 Stelle ma quando sono indagati quelli del Movimento 5 Stelle per il fatto non è uno scandalo se è un indagato invece a candidarsi del PD e di Forza Italia è uno scandalo per il fatto curiano ma quello che dico e che mi diverte è per quale motivo non ci scandalizziamo mai del fatto che ci siano 9 magistrati che giudicano della vostra vita vi possono togliere soldi e libertà che siano stati arrestati non indagati sono stati arrestati per corruzione io la trovo una cosa scandalosa ma vabbè comunque poi la giustizia farà il soccorso l'ultima questione è di tipo economico e molto divertente perché hanno un gruppo di soci che è fatto da Luca di Montezemolo Diego della Valle questo Punzo quello che faceva il grande cratere campano che ha molti debiti con le banche ma adesso li risolverà e vediamo come beh insomma si sono messi in testa di fare la concorrenza alla federale dello Stato hanno costruito una ed è cosa buona e giusta quando si fa concorrenza in un paese è sempre cosa buona e giusta si sono inventati questo treno che si chiama Italo e hanno cercato di quotarlo recentemente intesa San Paolo e Generali hanno anche cercato loro di dare una mano a questa storia italiana non si capisce perché l'abbiano fatto intesa San Paolo e non la CDP che di questo dovrebbe occuparsi però le due banche private come spesso avviene danno una mano a fare le banche di sistema lo dico da liberale ma così è il punto fondamentale è che hanno cercato di quotare Italo e mentre stavano quotando Italo è arrivato un fondo americano che ha detto vi compriamo tutti a 2 miliardi e mezzo 500 milioni di debiti che ci portiamo a casa noi e 2 miliardi ve li diamo a voi azionisti una cifra incredibile la quotazione avrebbe portato 1 miliardo e 2 1 miliardo e 3 più di quello non avrebbe portato questo ha reso ricchissimi gli azionisti della Valle si sarà preso 300 milioni Montezemolo 200 milioni forse il primo grande colpo di Montezemolo nella sua vita perché l'altro fu la liquidazione della Fiat Punzo che era lì tirato col sistema bancario italiano insomma si è riuscito a portare a casa un'ottantina di milioni di euro bravi bravi non c'è che dire altro ovviamente di questa partita l'unico che è rimasto fuori è Calenda perché Calenda era l'uomo prima di Punzo perché lì ha lavorato poi di Montezemolo in Confindustria poi gli è toccato fare il ministro e quindi è uscito completamente la partita ma il punto fondamentale è che Calenda e Padon ieri si sono messi a dire una cosa incredibile e cioè sapete quale? beh insomma era meglio forse la quotazione ma come era meglio la quotazione? cioè intanto siete azionisti delle ferrovie dello Stato e quindi siete in conflitto di interessi intanto Calenda conosce bene queste persone perché eri un loro dipendente e poi stanno facendo un'operazione di mercato fate tanti liberali ma perché andava meglio fare la quotazione per rimanere italiani questo è il concetto ma beh può anche darsi molto difficile questo tema me ne rendo conto molto appassionante per noi che ci occupiamo di economia ma su questo andremo avanti certo era meglio la quotazione per affossare Italo punto non lo so Emanuela ma mi sembra che comunque i proprietari possono decidere la soluzione migliore avremo i treni americani sai che paura tanto le ferrovie sono qua la gente è qua i ferroviari sono qua chi se ne frega di chi è la proprietà basta che funzioni no? non è che è così difficile vi do un saluto vi do appuntamento questa sera come sempre come sempre ma non vede che parli solo di maschi posizioni di comando forza le femmine bassa gli uomini dice Letizia bene forza le femmine e abbasso gli uomini andiamo avanti e vi do appuntamento questa sera 105 Matrix grazie Francesca per i complimenti di ieri sera puntata secondo me molto divertente certo contro Sanremo è sempre una complicazione gli italiani amano Sanremo quindi zitti e muti e ci vediamo questa sera ciao